Ringrazio per l'invito e mi complimento per la sede del vostro municipio, un luogo bellissimo. Sono le prime parole del magnifico rettore dell'Università di Pavia, Fabio Rugge, a Voghera per la presentazione ufficiale del crowdfunding dell'Università dello Sport, invitato dal sindaco Carlo Barbieri a visitare Palazzo Gunela. La vocazione del nostro ateneo, ha spiegato il professor Rugge, è quella di un'università espansiva. Il nostro brand deve essere forte anche in località del territorio distanti dalla città di Pavia. Bisogna però che ci siano circostanze che lo rendano possibile. Non sono favorevoli ai doppioni o all'università sotto casa dello studente. Ci devono essere nuove idee con un loro senso e una loro identità. Immediata la risposta del prefetto di Pavia, Rosa Cesari, che propone la creazione di una facoltà della moda. A Voghera è nato Valentino e la moda fa parte del DNA della città. Una scuola di stilisti non sarebbe male e, unitamente alla riapertura del teatro sociale, potrebbe dare un'impronta culturale importante al territorio cittadino. Soddisfatto il padrone di casa, Carlo Barbieri, Voghera è un punto di riferimento per l'oltrepo e la visita del magnifico di Sua Eccellenza il prefetto è sinonimo di riconoscenza. Con questo incontro vogliamo convalidare, quanto già detto in passato, una collaborazione attiva tra comune di Voghera ed università. L'obiettivo è quello di valorizzare sempre di più la facoltà di medicina dello sport, aumentando il numero degli studenti e riqualificando le strutture sportive presenti sul territorio. Sarà mia cura incentivare l'inserimento, nel prossimo bilancio regionale, di fondi destinati al centro di medicina sportiva. Il sindaco ha fatto riferimento alle diverse strutture inutilizzate di proprietà del comune, che potrebbero essere utilizzate per qualcosa di nuovo. Deve essere messa in campo la progettualità e chiedo all'università di pensarci e di aiutarci. Abbiamo una forte volontà di lavorare con imprese nuove ed innovative, per aiutare i giovani nelloaureati e per chi vuole scommettere sul futuro con le start-up.